Agrigento, la polizia stradale, la statale 115, il chilometro 180, le ore 22 e 50, il gesso bianco sulla lavagna nera e quasi l'epitaffio scritto sul marmo freddo di una tomba, il morto e sull'asfalto, il lenzuolo bianco, i vigili del fuoco lo hanno appena liberato dalle lamiere soffocanti della Opel Tigra, eccola qui, agganciata ad una Renault Scenic. La vittima è Onofrio Licata, è nato nel 1961, è morto a 47 anni nella sua città, Porto Empedocle, sotto l'Hotel Africa, tra le case di Contrada Ciuccafa e di Lecimitero, nella curva a gomito che precipita verso il mare. L'uomo alla guida della Renault Scenic è ferito, Salvatore Gambuzza, anche lui è di Porto Empedocle, ha 37 anni, è un cuoco famoso, ha vinto tanti concorsi e lavora all'Hotel Villa Atena. Che coincidenza, l'ironia della sorte, Beffarda, infatti anche Onofrio Licata, per gli amici Nuccio, ha lavorato in un ristorante a Porto Empedocle, al Calipso, in Contrada Durrueli. La dinamica dell'incidente è un rebus complicato. I poliziotti della stradale di Agrigento, coordinati sul posto dall'ispettore Mallia, lavorano. Il compito è difficile. Le due automobili sono fracassate. L'impatto le ha accartocciate. Lo scontro è stato violento, implacabile. Le immagini sono testimonianza di una collisione spaventosa, paurosa, che ha sventrato e sbrindellato la Tigra e la Scenic. Adesso lì, sulla carreggiata, in attesa della conclusione dei rilievi di rito e del carroattrezzi. I carabinieri, gli operai dell'ANAS, i curiosi, poi i familiari, il riconoscimento straziante.